Aurelia, non fa così, lo sai com'è fatta papà? Vieni, bello. Aurelia! Non è buono lì, tanto a baracca non va. Come pensate che ho ancora una creatura? Come ti piace il ricchio e ti faccio rumore? E che pretendi che hai 60 anni? Pretende che andate a romperlo, cazzo. Posso fare quello che dico io? Sei preoccupato, si mette paura che fanno stronzata. Ma tu non ne fai stronzata, è vero? Oramai sei grosso, non so che ne voglio un cielo, aurelia. E' così o no? Allora, papà teniamo ragione. Sei stata tu? Ehi, sono stati io. E qual è il problema? Faccio mettere i genocchi e faccio una preghiera. E così mi faccio una penitenza. Oh no, aspetta, forse faccio la 20 gramma. E così per l'indulgenza, perché dai da questa famiglia in merda, così funziona. E ti salva la faccia, ti pare l'apparenza, come i priet. No. No, va. Sei da salvare un uomo. Hai capito o no che siamo solamente un uomo che portiamo? No, no, no. E' caga, ti sbaglio lì. Noi non siamo solo un uomo che portiamo. Noi siamo quello che facciamo. Ehi, che ti ha già pure difesa. Ma chi ti ha chiesto niente? Ha già fatto sempre tutto cosa su lì, sempre. E continuerò a fare così. Questo riguarda tutta la famiglia nostra. Perché non mi hai detto niente? Ti rendi conto che le hai fatte? Che le taccirano? Buono. Ci hanno sempre riuscito, però. Ecco. 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 Ecco.